5, 6, 7, su stelle bitte Chi è fuori, passo Chico, perché non ci dà i pattini da ghiaccio? Chiediamo un rinvio, con il sole la neve si allenta Già chiesto, non lo concedono, esigenze televisive E' già, quelli in poltrona si divertono di più, se ci vedono volare Gli piace il rischio, quello degli altri Dai Marco, non cominciare a far casino Io? Go! I numeri 4, 5, 6 alla partenza C'è qualcuno che crede nell'efficacia della preghiera? Adesso sto giocando, ma quando scenderai tu pregherò sul serio Attento le ossa, campione Anche tu 5, 4, 3, 2, 1, go! Al primo intertempo Gustavo Temi passa 47 secondi e 95 centesimi 47, 95 Al secondo intertempo Gustavo Temi in un minuto 48 secondi e 24 centesimi Vince, vi dico che vince Cristo ragazzi, lo stesso tempo di Clamer? Vince! E' vero padre eterno che vince Il tempo di Gustavo Temi è di due primi 4 secondi e 98 centesimi Grazie!